La nostra sede è aperta al pubblico quattro mattinate alla settimana, dalle 9 a mezzogiorno dal lunedì al giovedì. Utilizziamo il pomeriggi e il giorno in cui l'ufficio è chiuso, ovvero il venerdì, per sviluppare le pratiche che raccogliamo in settimana. È un lavoro abbastanza gravoso e deve essere fatto con estrema attenzione anche per il fatto che ogni pratica è diversa dall'altra, però sostanzialmente riusciamo a ricevere tutte le persone che ci chiamano previo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.